Di quella vita, con questa strada, con delle stive, marciavano. Dimasu, Nagatsu, che s'hanno sciotto, Eiza, sei morto! Tornerò. Che cos'è? Questo posto? Questo posto? Tu chi sei? Il prossimo. Io sono Nobunaga. Odasaki no Ufu Nobunaga. Il prossimo. Nasus Ketaka Yoichi. Bugiando! Parliamo del periodo della guerra che impai! Le persone che vengono catapultate qui da un altro mondo. Noi li chiamiamo i Naufraghi. Oppure li chiamiamo Drifters. L'illaggio degli Elfi è in fiamma. Sono sotto attacco. Sì, è odore di battaglia. Trovateli. Stanateli. Uccideteli. Un solo desiderio vi spinge all'azione ovunque si trovi. Conquistare ogni terra disponibile. Adverso controlementare il segno. Un altro desiderio vi spinge all'inferno senale. Un altro desiderio vi spinge all'interesse. Un altro desiderio vi spinge all'interesse. Un succesivo sind 했던 tubi che guardano. Un c insegnamento che privano ancora il consumale lei è di più. Un altro desiderio.